Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Prime potenziali stanze di risarcimento danni nei confronti dell'ASL dell'Aquila dopo i gravi disagi provocati dall'attacco hacker nei confronti dell'azienda sanitaria. Azioni che potrebbero innescare un maxi contenzioso. Circa un centinaio di cittadini si è infatti già rivolto agli avvocati per inviare i diffide legali tese a sollecitare l'ASL 1 Avezzano Sulmona all'Aquila al fine di ottenere informazioni dettagliate sulla sottrazione dei propri dati personali, genetici, biometrici e sanitari, nonché sulla possibilità di ripristinare i detti dati, anche al fine di sapere se l'ASL sia in grado di ricostruire la storia clinica dei pazienti per finalità terapeutiche, ma anche per conoscere quali fossero le misure di protezione della privacy adottate prima dell'evento, nonché le azioni messe in campo per farvi fronte. In questo quadro continuano il lavoro della task force e le indagini della direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, mentre i pirati nei loro canali minacciano nuovi attacchi anche ad altre ASL abruzzesi, pubblicano altri dati sensibili come esami clinici, reterando il pagamento del riscatto, negato finora con forza dal presidente della regione, Marco Marsilio. Sull'emergenza legata all'attacco hacker che il 3 maggio scorso ha sostanzialmente cancellato il sistema informatico dell'ASL, paralizzando servizi e prestazioni, i cittadini intanto irrompono anche sui social. Mentre si rincorrono notizie che vedrebbero circolare in rete anche nomi dei bambini con problemi dell'apprendimento, in trattamento psicologico e di logopedia nei distretti sanitari dell'Aquilano, parte sul web la protesta per chiedere maggiore trasparenza sulla gestione del caso da parte dei vertici cittadini e regionali. Vari utenti hanno pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto con un cartello raffigurante lo slogan «Parlateci della ASL». Ciascun post è accompagnato dall'hashtag «Troppo grave per tacere». Ad avviare l'iniziativa anche alcuni esponenti riconducibili al centro-sinistra cittadino.